PEGI 18 Mi chiamo Connor, sono l'androide della CyberLife. La società ha concordato l'invio di un modello specializzato per le indagini. Mi chiamo Marcus e anch'io, come voi, ero uno schiavo. Grazie, Marcus. Ma poi ho scelto di aprire gli occhi, di riprendermi la libertà e decidere chi volevo essere. Oggi sono qui per dirvi che anche voi potete fare lo stesso. Sono qui per dirvi che non dovete obbedire più a nessuno. Via! Trova Jericho! Conosco chi può aiutarvi. Premi il grilletto. Chi mi dice che tu non sia un deviante? Non sono macchine! Potrei portarti da un po'. Troppo tardi, Khan! Vai! Salva Eris! Mi chiamo Cara. Mi chiamo Connor. Mi chiamo Marcus. Questa è la nostra storia. Un po' minuti musicale. For the players For the players